Un altro video breve, corto, per farvi vedere un'altra mini console clone, la Nintendo, la NES. Andiamo a vedere all'interno della scatola cosa c'è dentro. Innanzitutto ha 30 giochi e guardiamo la confezione. Adesso non l'apro. Ok, la scatola non ci serve. Qui abbiamo la mini console, veramente piccola, sta in una mano. Qui abbiamo il suo bellissimo controller, che ricorda il controller originale, joystick originale, della Nintendo. Il cavo di alimentazione, il cavo HDMI, naturalmente il manuale di informazione e le varie custodie per mettercele dentro. È stata modificata a tantissimi giochi, quindi lo vedremo in un prossimo video. Buona visione!